... Benvenuti alla Rassegna Stampa di oggi, lunedì 17 febbraio 2020 sul canale di Fano TV, canale 17, cioè la lettura dei giornali come tutte le mattine. Iniziamo con il Santo, oggi la Chiesa ricorda i beati, i santi, sette fondatori dei Servi di Maria. Abbiamo a Pesaro, per esempio, la Chiesa bellissima di Santa Maria delle Grazie, gestita proprio, curata dai fondatori, insomma dai Servi di Maria. Il sole sorgerà alle 7.05, tramonterà alle 17.39 minuti, la tempesta Dennis arriva feroce invece sul Regno Unito, questa è la copertina di Trebimeteo, due vittime e venti a 150 km orari, una veloce perturbazione invece in transito a metà settimana sull'Italia. Per quanto riguarda la Regione Marche, oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso, con un aumento graduale della nuvolosità, soprattutto in montagna. Attenzione alle locali gelate questa mattina. Il vento soffierà con intensità, soprattutto nel sud della nostra Regione. Ma anche oggi le temperature saranno comunque nel cuore della giornata alta, addirittura Iesi toccherà 18 gradi. Per domani, martedì 18, cielo sereno poco ruvoloso, con temperature in lieve aumento, ancora un po' di brezza leggera. La giornata di mercoledì, come abbiamo detto, sarà probabilmente caratterizzata, scrive la Protezione Civile delle Marche, da condizioni di debole maltempo, con precipitazioni che perdureranno sui settori meridionali fino alla prima parte della giornata di giovedì. Il limite delle nevicate è poco sotto ai mille metri verso la fase finale di questa perturbazione. I giornali subito con il Corriere Adriatico in apertura, la sosta in centro storico a Pesaro, caccia al Tesoro. ZTL mappata per scovare nuovi posti per parcheggiare la macchina. Perché a Pesaro c'è un problema di parcheggio nel centro storico, perché c'è un parcheggio ogni quattro permessi. E le zone più critiche dove intervenire sono indicate nell'articolo che troverete sul Corriere di questa mattina. A centro pagina, invece, lo sport del lunedì con le due squadre di calcio, la Vispesoro e l'Alma Juventus Fano, che hanno perso entrambe. Domenica, dunque, nera per i tifosi. Bianco-Rossi, travolti 4-0 a Trieste. I Granate, invece, si arrendono al Sud Tirol per 2-0. Ed ora l'Alma Juventus Fano è ultima in classifica. Ma è andata bene, invece, perlomeno dal punto di vista organizzativo, la Coppa Italia. Un successo per Pesaro. Si è conclusa con la vittoria della umana Reier Venezia, la Final Eight della Coppa Italia di Basket. con Pesaro, che ha superato una grande prova organizzativa, portando oltre 31 mila spettatori al Palazzetto dello Sport nei quattro giorni di gare. La politica verso le regionali e c'è un faccia a faccia. Oggi, atteso con Ceriscioli, per lui, il giorno della verità, scrive Maria Teresa Biancardi sul Corriere. Nel pomeriggio, dicevamo, si svolgerà un summit tra il governatore Ceriscioli e i segretari delle federazioni provinciali del PD, più il segretario regionale Gostoli. Sarà interessante vedere se risponderà alla chiamata del Presidente della Regione. La stessa cosa vale per la segretaria Dem di Ancona, che sostiene la Mancinelli. Poi, di taglio basso, sisma, appalti irregolari, ditte pesaresi ai raggi X. Ecco le accuse alla costruzione Giuseppe Montagna, contestato un ingiusto profitto per quasi 3 milioni di euro. Parliamo della ricostruzione, parliamo delle casette nelle zone terremotate delle Marche. Sono coinvolte anche tre aziende del pesarese, lo vedremo tra poco. Poi si parla di carnevale, nelle pagine interne più gente a Fano, ma non c'è il pienone. Resto del Carlino, la festa del basket a centropagina. Final 8 vince Venezia, oltre 31 mila spettatori nei quattro giorni. Il Comune batte cassa alla difesa. Il Comune di Pesero chiede il pagamento arretrato di Imu e Tasi per gli appartamenti nella caserma. Un arretrato di 100 mila euro. Che spettacolo invece a Fano, il carnevale e il pubblico aumenta. E poi c'è la festa dell'Avis che premia i campioni delle donazioni. La festa ovviamente a Pesero. RSA di Villa Fastigi, taglio del nastro, ma dopo nove mesi ancora niente. Poi la sanità che non va. Si parla di un'invalida che ha prenotato un esame, ma per lei c'è posto solo nel 2021. E le è stato detto vada a fermo. La Vis crolla a Trieste, un poker che fa malissimo, mentre a Bolzano l'alma sbaglia e paga. Ora è ultima e sempre dalle pagine e dalle cronache interne. Cade sulla pista a Sasso Corvaro, la pista di motocross. Un centauro è rimasto ferito, soccorso con l'eliambulanza. I medici lo recuperano con il verricello. Mentre gli sfalci e le potature continuano, anche vista la stagione anomala, ma ci sono proteste per i bidoni che sono sempre pieni. Una delle conseguenze di questo strano inverno, ma Marche Multiservizi, che è l'azienda che ha detta al recupero di questi sfalci, dice e annuncia quali sono le possibili soluzioni. Più gente, dicevamo, al Carnevale, ma non c'è il pienone a Fano. Aumenta il pubblico alla seconda sfilata dei carri del Carnevale di Fano, raggiungendo alle 18.30 di ieri pomeriggio i 13.420 spettatori, su un massimo ammesso di 14.425 unità, e rispetto alle 11.900 della prima sfilata. In quel momento stava per concludersi la luminaria, per avere inizio gli spettacoli in Piazza 20 Settembre, e a quell'ora appunto sono entrati, avevano staccato i 13.420 biglietti. Le caratteristiche di questa edizione ha colpito sicuramente anche un gruppo di giornalisti tedeschi che sono stati invitati da un'agenzia della città. E questo gruppo è rimasto colpito dalla caratteristica di questo Carnevale, ammettendo di non aver mai visto una cosa simile. Poi sotto si parla invece del Carnevale dedicato ai bambini, quello che si tiene ogni mattina e che anche ieri mattina ha fatto l'unplane, è tutto esaurito. E' piaciuta anche la passeggiata in maschera sulle tavole da sub. Tutte cose che sono già state viste, riproposte di anno in anno, ma che comunque, proprio perché si svolgono una volta all'anno, non stancano e sono comunque gradevoli da rivedere. Carnevale, una sfilata baciata dal sole, titola il resto del Calino di Pesaro. Anche il pubblico aumenta, i carri incantano, e tante famiglie si presentano con il cane per il momento dedicato al nostro miglior amico. Perché ieri mattina, oltre ad essere il Carnevale dei bambini, era anche il Carnevale dei cani, degli animali. Quindi un appuntamento per gli amici da Quattro Zampe e i loro padroni, che ha iniziato in via Cavour. Poi c'è stata questa sfilata lungo il Corso Matteotti, fino a raggiungere poi Piazza 20 Settembre, per poi contendersi il premio della giuria, perché i cani ovviamente dovevano essere obbligatoriamente mascherati anche loro. E queste sono alcune scatte, alcune fotografie, che il giornale pubblica a proposito della sfilata che si è tenuta ieri in via Le Gramsci. La notte dei colori, invece, ovvero il Carnevale, chiamiamolo così, serale, il Carnevale notturno, è sicuramente la novità di quest'anno. Così come lo è stato, scrive Massimo Fughetti questa mattina sul giornale, all'epoca sotto la direzione di Cecchini, il Carnevale dei bambini e quello dedicato ai cani, questa è l'unica novità sicuramente degna di nota, che porta la firma della carnevalesca guidata da Maria Florgia Marioli, sicuramente è questa notte dei colori il Carnevale notturno. Così i fanesi si sono riappropriati della manifestazione storica, applausi anche alle maggiorette che poi hanno sfilato, anche hanno aperto il corso mascherato di ieri pomeriggio. Sotto, invece, si parla dell'ente carnevalesca. In questi giorni il Corriere Adriatico si sta soffermando in particolare sull'aspetto professionale, ieri aveva scritto Lorenzo Furlani dello statuto, in particolare adottato dall'ente che organizza il Carnevale. Oggi riporta le parole dell'assessore al turismo e agli eventi, Lucarelli, che condivide la necessità di rendere professionale la carnevalesca. Ora, non è che non lo sia professionale la carnevalesca, sta facendo i salti mortali, ogni anno fanno, come dire, di tutto per garantire la buona riuscita di una manifestazione che diventa sempre più complessa da organizzare, sempre più, tra virgolette, anche rischiosa dal punto di vista organizzativo, con tante responsabilità che pesano sulle spalle di chi appunto ci mette poi la cosiddetta firma su questo foglio fatto di permessi, di obblighi, di cose da rispettare, di regole da rispettare che sono sempre più stringenti e sempre più ferre. Però proprio per questo, e questo è un po' il senso anche dell'articolo di questa mattina, sempre a firma di Massimo Foghetti, proprio per questo è necessario, e su questo è d'accordo anche appunto l'assessore Etienne Lucarelli, è necessario che l'ente carnevalesca sia gestito da professionisti, cioè da persone che evidentemente poi dovranno anche fare questo lavoro tutto l'anno e non solo a ridosso delle date del carnevale. Paura invece, e siamo sulla cronaca di Pesaro del Carlino, per un motociclista che rotola in un dirupo l'incidente a bronzo di Sasso Corvaro, è un cinquantenne della Romagna che faceva in duro con un amico. È arrivata l'eleambulanza che lo ha preso e lo ha caricato su per poi portarlo all'ospedale regionale. È successo ieri intorno alle 4 del pomeriggio, quest'uomo è un cinquantenne, come dicevo, faceva parte di questa comitiva proveniente dalla Romagna ed è caduto rovinosamente fratturandosi alcune costole. Qui invece la fotografia di un aerone guardiaboi che era a spasso al Fano Center di Fano a Bellocchi, sorpresa nel parcheggio, l'animale cercava il cibo e si muoveva indisturbato. L'esperto parla di un caso insolito. Invalida, deve fare l'elettromiografia, però si sente dire al telefono vada a fermo perché qui il posto per lei c'è soltanto nel 2021. Quindi tra un anno, liste di attesa, le storie vere contrapposte ai trionfalismi della regione. Un altro caso poi a Urbino. E questa è invalida, questa è la storia di una donna residente a Pesaro di 56 anni che appunto si è sentita rispondere di andare a fermo oppure a San Benedetto del Tronto anche se lei poi fisicamente insomma non è che può sostenere un viaggio del genere. Anche perché poi non a caso scrive Simona Spagnoli sul Corriere non ti hanno riconosciuto un'invalidità a 46 anni se poi puoi muoverti liberamente. Quindi anche sentirsi dire così è un po' una beffa. Vada a, vada dove. Se uno è invalido ha certamente dei problemi anche negli spostamenti. e torniamo sul Corriere la politica regionale con il Partito Democratico che ancora non è riuscito a trovare la quadra prima Ceriscioli poi Uniti per le Marche oggi sarà una lunga giornata per il Partito Democratico e per i suoi alleati come dicevamo c'è un incontro tra il Governatore e i Segretari seguirà quello tra PSI, Verdi, Civici e Pio Europa e la Sartidi dice non c'è la convocazione Alessandrini arriva pronti per il Summit e quindi vedremo poi domani che cosa scriveranno i giornali a proposito di questo incontro. Due pagine invece il Corriere Adriatico dedica ai parcheggi alla ZTL soprattutto in centro storico il Comune ha annunciato una revisione nel frattempo resta il nodo però appunto di questi parcheggi perché c'è un posto auto ogni quattro permessi e insomma è un po' pochino ma su queste due pagine il Corriere Adriatico questa mattina mette in due riquadri a parte intanto la novità che le rotatorie a Pesaro sono state numerate probabilmente qualcuno si sarà accorto avrà visto che da alcuni giorni nelle rotatorie sono apparsi dei numeri 1, 2, 3, 4, 5 ecco sono i numeri che servono per identificare appunto queste rotatorie e sono utili questi numeri soprattutto quando si ha la necessità di essere geolocalizzati per esempio in caso di incidente o qualcosa può succedere che uno abbia bisogno di dire magari non è del posto di chiamare un'ambulanza di chiamare dei soccorsi insomma avere un numero di riferimento nella rotatoria può essere comunque un aiuto poi è vero che ci sono le vie intorno c'è tutto quello che serve però ecco un aiuto in più e poi l'altra notizia invece sempre sulla pagina del Corriere è sui monopattini elettrici la notizia è questa che l'appalto del servizio è stato aggiudicato se l'è aggiudicato una ditta di Milano e che questi monopattini potranno dunque continuare ad essere utilizzati e hanno chi li usa sappia che ha le stesse regole dei ciclisti quindi deve rispettare il codice della strada tutto quanto e vige appunto la regola le regole per i ciclisti sulla sisma invece c'era un sistema secondo la procura di Ancona di irregolarità diffuse ci sono tre aziende pesaresi coinvolte che vengono accusate in questo momento dalla procura di Ancona e sono tre aziende coinvolte la costruzione Giuseppe Montagna per lei per questa azienda la procura distrettuale contesta un ingiusto profitto di quasi 3 milioni di euro dicevamo queste tre aziende sono la montagna appunto di Pesaro poi altre due imprese che hanno sede a terre roveresche la Italian Window Distribution e Trading SRL la Global Windows Service e Logistics LSRL secondo la tesi del pubblico ministero Irene Bilotta tale sistema avrebbe tollerato una truffaldina mancanza delle certificazioni prescritte contro i rischi di infiltrazioni mafiose mancano in sostanza i certificati antimafia non erano corretti comunque a presidio delle qualificazioni aziendali ecco questo un po' in termini più più precisi poi sotto un milione in più all'impresa per lucrare sui costi è sempre la tesi del PM Irene Bilotta per il progetto di variante autorizzato nel cantiere delle casette l'esercito paghi invece l'IMU a Pesaro il comune chiede quattro anni di arretrati alla difesa al ministero della difesa per la caserma Cialdini il conteggio parte dal 2014 e arriva al 2017 per un totale di quasi 100 mila euro secondo la Cassazione gli alloggi degli ufficiali sono soggetti alla tassa praticamente della seconda casa e quindi la caserma Cialdini diventa alloggio per gli ufficiali e sotto ufficiali della Del Monte e dunque deve essere tassata e finire come una qualunque seconda casa per l'esattezza il comune di Pesaro ha chiesto al ministero 83.794 euro di imu retrata riguardanti gli anni 2014 dal 2014 al 2017 la cronaca cade con la bicicletta vuole i danni ma alla fine viene condannata il caso è di una signora che è finita a terra e rovinata a terra in via Canale sempre a Pesaro per colpa di una buca andava in bicicletta poi una buca improvvisa la signora è caduta sull'asfalto riportando diverse chimosi per questo ha presentato denuncia al giudice civile per essere risarcita e lei riteneva che il comune dovesse coprire le buche e garantire dunque una circolazione sicura però si sbagliava evidentemente e scrive Roberto Demiani sul giornale di questa mattina il giudice non solo ha rigettato la sua richiesta di risarcimento danni ipotizzando una sua esclusiva responsabilità nell'accaduta ma ha anche condannato la donna a pagare le spese di giudizio quantificate in 4790 euro capito? questa è la notizia avanti con il lavoro in via Craxi invece su via Craxi questa è la fotografia di nuovo siamo sul corriere del cantiere aperto lungo la cosiddetta strada del Famila che nell'intenzione del sindaco Matteo Ricci poi diventerà via Craxi e quindi via Bettino Craxi prende forma e via Bettino Craxi collegherà i quartieri di Cattabrighe e di Vismara intanto è stato affidato l'incarico per collaudare questa bretella che collegherà i due quartieri poi i servizi in spiaggia anche per i disabili con un'apposita mozione prima c'è Pesaro Fratelli d'Italia chiede di pensarci per tempo mentre a Vallefoglia si fa un primo bilancio del Festival dell'Amore che si è concluso nella giornata di ieri c'era tanta gente a Vallefoglia sia per la prima edizione del Festival dell'Amore ma anche per il Carnevale di Rio Salso che poi complice una bella giornata di sole ha portato tante persone appunto nell'area del Centro Commerciale dei Centro Vetrine dove per tutta la giornata si sono susseguite queste iniziative in programma con il Clu nel tardo pomeriggio con le performance di artisti e gruppi musicali anche con DJ mentre a Cagli c'è stato un flash mob sabato pomeriggio con un centinaio di persone per dire no alla violenza contro le donne e violenza anche nei confronti dei bambini il piano sanitario invece rafforzato rafforza la centralità dell'ospedale sono parole del Partito Democratico che servono per replicare all'assessore Elisabetta Foschi assessore della sanità del Comune di Urbino che ha criticato la scarsa attenzione all'ospedale e in particolare più in generale alle zone e alle aree interne è polemica su questo piano sanitario 2020-2022 che è stato approvato recentemente in regione tra il Comune di Urbino e quindi Elisabetta Foschi e il Partito Democratico locale l'assessore Foschi aveva criticato questo piano asserendo che il risultato non era stato il frutto di una campagna di ascolto del territorio ma ricordando che in appendice ci sono almeno quattro pagine invece su coloro che hanno contribuito con suggerimenti e giudizi quindi da una parte la Foschi che dice non ci avete ascoltato dall'altra il Partito Democratico che dice invece no guarda che ci sono quattro pagine che si riferiscono ai contributi ai suggerimenti che abbiamo raccolto nel corso del tempo l'acqua a prezzi starciati invece siamo a Serra Sant'Abbondio a Serra Sant'Abbondio così come molte località della montagna delle nostre montagne località che sono che si stanno spopolando piano piano ebbene ci sono delle misure a sostegno di coloro che decidono invece di andare ad abitare o perlomeno di restare in questi bellissimi borghi spesso questi bellissimi posti tra l'altro c'è anche una mozione che a sostegno della montagna che è stata votata l'unanimità dalla Camera proprio a fine gennaio tra in questa mozione si legge che ci sono delle agevolazioni come per esempio il pagamento a soli 4 centesimi ogni metro cubo di acqua potabile per contrastare il dissesto idrogeologico oppure l'esenzione dall'IRPEF l'IRAP l'IMU e anche dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per chi avvia oppure mantiene un'attività economica o commerciale nei paesi fino a mille abitanti insomma agevolazioni negli oneri di urbanizzazione per chi ristruttura sono queste solo alcune delle misure tradotte sul piano pratico di questa mozione a sostegno dei paesi di montagna quando parliamo di paesi di montagna qui fa bene il Corriere Adriato a ricordare per esempio che sono Serra Sant'Abbondio Frontone Cantiano Caglia Acqualagna Pecchio poi c'è Piobbico Sassoferrato Arcevia ecco tutti questi paesi ma tanti tanti che sono anche nella nostra regione grazie a questa mozione possono come dire sponsorizzarla e fare in modo che almeno qualcuno o si trasferisca o perlomeno non decida di andare via altrove e di trasferirsi in città parco deturbato invece a terra roveresca il sindaco Antonio Sebastianelli asporto formale denuncia ai carabinieri contro ignoti che hanno deturbato il parco urbano La Busca nel municipio di San Giorgio di Pesaro è una segnalazione che è arrivata da Manuel Bacchiocchi e che fa riferimento a un sottobosco deturpato a panchine tavoli divelti utilizzati per creare salti con evidentemente le biciclette le mountain bike insomma hanno creato questi sentieri queste paratie terra battuta come se fosse cemento insomma hanno un po' deturpato tutto questo parco e così il sindaco Sebastianelli asporto formalmente denuncia mentre a Senigallia i vandali scatenati del sabato sera lanciano biciclette e segnali stradali un ride di un gruppo di giovani in via Mastai c'è addirittura chi ha dato fuoco a dei cassonetti insomma questo è il racconto che Sabrina Marinelli fa questa mattina sul Corriere Adriatico dove in via Verdi un teppista è stato anche ripreso con il cellulare e quindi insomma è un po' quello che solitamente avviene nel fine settimana quando questi giovani che non sanno più cosa fare per provare emozioni divertirsi e quant'altro fanno e distruggono quello che si trovano di fronte provoca una lite invece al foro sempre a Senigallia e sparisce con un cellulare un ucraino è stato denunciato ucraino ubriaco che infastidiva i clienti in un locale poi l'ultima pagina della nostra segna stampa da Pesero ancora Pesero e provincia sfalci foglie e potature bidoni pieni e proteste materiale accumulati anche a causa dell'inverno decisamente anomalo marche multiservizi parla di servizio attivo da marzo a dicembre è sempre stato così quindi bisognerà aspettare anche perché nessuno prevedeva in effetti di effettuare le potature a febbraio febbraio solitamente gennaio e febbraio non è periodo di potature la vegetazione è ferma teoricamente per il gelo per il freddo quindi non si toccano le piante si lasciano lì a dormire a riposare in attesa del risveglio primaverile ed è appunto verso marzo che si comincia marzo-aprile a potare in realtà qui è tutto sballato e quindi di conseguenza c'è chi ha iniziato a fare queste potature e anticipando le potature chiaramente il servizio deve ancora partire e quindi c'è questa attesa che si traduce di servizi anche se poi è possibile prenotare un servizio a domicilio oppure andare al centro di raccolta per portare questi sfalci di questo con questa notizia chiudiamo qui la nostra segna stampa del mattino noi ci vediamo stasera alle 20 e 30 con il telegiornale Occhio alla Notizia e poi adesso il nostro regista Riccardo ci dirà invece subito dopo il telegiornale chi sarà l'ospite di Primo Cittadino in diretta di questa sera Enrico Rossi Sindaco di Cartoceto perfetto risposta esatta allora stasera Enrico Rossi Sindaco di Cartoceto a Primo Cittadino con Simona Zonghetti grazie per averci seguito buona giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti